Musica Quest'oggi vi propongo una classe rotta con l'MP5 Non un'MP5 qualunque, ma l'MP5 di Modern Warfare utilizzato dai pro player Solitamente negli scontri 1v1, nelle partite private Che è davvero un'MP5 devastante L'ho dovuto un attimino riadattare per Warzone Perché ovviamente aveva 30 colpi la classe originale E su Warzone è meglio magari metterci un caricatore aumentato Ad ogni modo ragazzoni la classe non la troverete all'interno di questo video Ma bensì su Discord Trovate tutti i link in descrizione per unirvi al nostro nuovissimo server Discord Ci stiamo veramente dando l'anima e creando un sacco di cose Quindi veramente ragazzi vi chiedo stragentilmente se potete entrarci E supportare un pochino questo nuovo progetto Che tra pochissimo verrà realizzato al 100% E creerà delle cose fantastiche Permetterà veramente di essere una vera community Di organizzare partite con me Partite private Di creare i vostri gruppi all'interno Le vostre stanze Tutto quanto Vi condividerò anche le classi E tantissime altre cose Quindi ragazzuoli Se mi fate questo favore anche da telefono Entrateci perché veramente Ci stiamo dando l'anima Grazie mille del supporto che sicuramente mi darete Vi lascio con il video di questa super classe Bella raga Se corriate nella mia lobby bro Dai ci sta ci sta Ci divertiamo bro Cioè a me piace un botto raga L'importante è non stream slipperare Se ci becchiamo in lobby io sono la persona più contenta Sia in positivo che in negativo Se mi spaccate il culo Sia Esatto Ce l'ho d'altra Uno me l'ha confermato Uno è sopra Cazzo Un colpo stai 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 Questi Guarda stanno insieme Tutte Con la stessa intonazione Minchia Si Anche a me No Porco No Porco No Troppi Troppi Guarda che roba Era one shot Ok Sopra 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 Stupito Oh qua di fronte Altri 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 Da sotto qua a sinistra No No c'è chi no Il timing Peccato Sussa Diventa il Supreme Va andare all'odio Dove vibri Guarda Guarda Occhio Porco Ma ma Posso far da di run Vabbè vai C'è l'ho Vabbè Vabbè C'è qualche corazza per caso Sì Ne ho tante Ok Anche un colpettino Di traietta se ce l'hai Vai Tieni Sono pieno Ma che cazzo come fai Oh è strabello perché stavo trovando un botto di italiani che parlano il chat di gioco Io adoro sta cosa Possiamo già fare il drop se volete Sono flashato Sono morto Ma dove sei? Sto cazzo Ne ho il drop Wow 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 Ci manca uno Non fai Ma ma Aspetta che sento Vedete rompersi anche qua raga Qua da me Sì da solo In questo che mi mette la claymore così E' una terra fuori anche E' avvenzato Vabbè ho metto Ma porco due ho L'altro è qua da me E' qua E' qua E' qua Sopra sul terrazzino Qua penso No qua 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 Stai avendo da morgo Sì, ho scelato di rinforza Anche ce l'ho speduto Ho trovato delle arme, l'ho trovato e non l'ho trovato. Un tetto Gian? Sì, uno l'ho fatto. L'ho trovato! Let's go! Let's go!